Odonto tecnico Sono un odonto tecnico che fa volontariato nel carcere di Regina Celi. Giorni fa mi hanno rubato la macchina, una Passat. Mi sono lamentato con un recluso a cui ho fatto due protesi gratis. Mi ha chiesto dove mi avevano rubato la macchina. Gli ho detto sotto casa mia al Tiburtino. Il recluso non ha detto nulla. Il giorno dopo ho ritrovato la mia Passat sotto casa. Perché? Commento. Perché il sentire che hai seminato nel carcere ti è tornato come Passat.